Dieci anni fa l'omicidio della psichiatra Paola Labriola venuta a Bari. Nelle scorse ore appisa l'aggressione e la morte della psichiatra Barbara Capovani a dichiarare l'emergenza per gli atti di violenza subiti dai medici e Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dell'Ordine dei Medici di Bari. Nel corso della trasmissione RAI, uno mattina Anelli ha chiesto al governo di intervenire e di risolvere il problema. La violenza è sempre una sconfitta, dichiarato non solo per chi la subisce ma per l'intera società. Anelli ha quindi ricordato l'omicidio della psichiatra Paola Labriola venuta a Bari dieci anni fa. Dalla morte di Paola è nato un movimento che ha portato a una serie di risultati ma esistono problemi che non sono stati risolti, ha proseguito Anelli e oggi siamo qui a piangere un'altra collega. Il presidente della Federazione Nazionale dei Medici ha quindi rilevato che abbiamo una legge che oggi, grazie agli ultimi interventi di questo governo porta alla procedibilità d'ufficio anche se la violenza è lieve ma persistono problemi di carattere culturale e organizzativo. Non abbiamo il tempo per parlare con i malati. La legge del 2017 che indica la comunicazione come tempo di cura non è realizzabile per la carenza di personale, per il numero esiguo delle figure professionali. c'è la necessità di fare una riforma.